tabaccai in tilt per attacco hacker sigarette vendute a 10 centesimi luto nella terra dei motori è morto luciano battisti mille alberi danno vita a un bosco urbano alla tombaccia le montagne pesaresi archiviano un inverno di rinascita troppa virtus per la vl little servis si ferma in finale di coppa italia ben ritrovati al nostro telegiornale oggi è lunedì 27 marzo apriamo questa edizione occupandoci dell'attacco hacker che ha in questo weekend ha colpito vari distributori automatici di tabacchi in tutta italia attacco che ha portato a vendere pacchetti di sigarette al prezzo irrisorio di 10 centesimi a pesaro si è subito corso ai ripari limitando gli ammanchi degli esercenti vediamo anche i tabaccai di pesaro colpiti dall'attacco hacker che nella notte di sabato ha manipolato in tutta italia alcuni distributori automatici fuori al freddo dal 41 bis questa la scritta citata sul display delle macchinette automatiche dove il prezzo di ogni prodotto in vendita era stato abbassato a soli 10 centesimi un prezzo irrisorio anarchici simpatizzanti di alfredo cospito attualmente detenuto in regime di 41 bis hanno colpito il sistema informatico di tutti i distributori realizzati dall'azienda mantovana laser video il punto debole sfruttato per hackerare i distributori sarebbe il lettore di tessere sanitarie e carte di identità elettroniche utile a riconoscere l'età dell'acquirente questo processo di riconoscimento determina la necessità di connessione alla rete che gli hacker avrebbero utilizzato per manomettere la rete di distributori i tre tabacchi colpiti sul nostro territorio sono stati quello in viale trieste di marino matteo quello di mario riccardo alla quaiti in strada delle regioni e a fano quello di giacomo tomassetti un attacco che ci ha un po' sorpresi e nello stesso tempo siamo rimasti soddisfatti di come ha funzionato la macchina organizzativa perché diciamo io ho avuto la notizia dalla dirigenza nazionale nella tarda serata del sabato e verso le 10 22 diciamo così e quindi un'ora inconsueta che dice cosa è capitato e alla fine tramite sms le chat e quant'altro sono riuscito subito a informare dell'accaduto i presidenti provinciali i vari responsabili del consiglio e anche i tabaccai e quindi diciamo che l'informazione è andata bene perché casi eclatanti di tabaccai colleghi che sono stati penalizzati e a cui magari hanno svuotato il distributore non non ce ne sono stati a livello ragionale uguale ho sentito i presidenti provinciali solo nel fermano sembra che ci sia un tabaccaio che ancora deve valutare qual è il danno diciamo così però dove si siano avventati per prendere questi prodotti al costo di 10 centesimi adesso resta di capire come mai sia successo questo hacker che ha entrata all'interno del sistema informatico di laser video e tutelarci in modo che certe cose non accadono più ecco l'importante è che riusciamo a quantificare i danni poi se dei danni ci sono vedremo come poter andare incontro a chi ha avuto il danno diciamo di questo fatto. Lutto per la provincia di Pesaro Urbino e per la sua vocazione a terra di piloti e motori è scomparso infatti ieri Luciano Battisti industriale che assieme al fratello era il timone dell'azienda Radiant di Montelabate aveva 79 anni ed è stato stroncato da un male incurabile. Battisti era un'autentica memoria storica della tradizione motoristica del nostro territorio. Fu storico pilota della moto B, fu fra i fondatori del registro storico Benelli e presidente onorario dello stesso motoclub Tonino Benelli. Una passione sfrenata per le due ruote estremizzata dalla sua ineguagliabile collezione privata di ben 200 moto storiche. Il questore di Ancona Cesare Capocasa ha punito con il Daspo due tifosi della Vispesaro in seguito ad alcuni episodi avvenuti durante la partita fra Ancona e Vis disputatasi lo scorso 28 gennaio. Si tratta di due provvedimenti di divieto di ingresso negli stadi nei confronti di un 46enne e di un 57enne. Il primo avrebbe acceso torce pirotecniche creando pericoli all'incolumità degli altri spettatori dello stadio. Il secondo avrebbe invece divelto un seggiolino dell'impianto. Il 46enne è stato punito con ben cinque anni di interdizione da manifestazioni sportive. Al 57enne verrà invece imposto il divieto di un anno. In questi giorni a Pesaro si stanno mettendo a dimora mille alberi che produrranno un bosco urbano a cavallo fra i quartieri di Tombaccia e Torraccia. E allora nel prossimo servizio andiamo a scoprire questo progetto di preziosa ecosostenibilità. Un ettaro di terra a cavallo fra il centro socioculturale Caprilino e via Gagarin diventerà un bosco urbano da un migliaio di alberi nel quartiere pesarese della Tombaccia. Piante che hanno cominciato ad essere messe a dimora in questi giorni in linea ad un progetto promosso dalla campagna mosaico verde di Lega Ambiente Pesaro e a zero CO2 aspettando le aree verde già pensate e programmate come opere compensative di società autostrade. Un progetto presentato oggi al centro Caprilino è finanziato grazie alla realizzazione fattiva di Estra Prometeo. Questa iniziativa ci permette di fare un'azione concreta nella lotta al cambiamento climatico. Consiste nella piantumazione di circa 3.000 alberi all'anno nei territori di riferimento dell'azienda dove operiamo quotidianamente. L'iniziativa ha sicuramente il vantaggio di fornire alle comunità locali un valido progetto di sostenibilità ambientale per l'assorbimento della CO2 immessa in atmosfera e come in questo caso di Pesaro la piantumazione consentirà anche di fruire in maniera migliore delle aree di questo centro sociale sia attraverso zone d'ombra sia attraverso una barriera naturale fonoassorbente contro l'inquinamento acustico del traffico veicolare. A 0CO2 insieme alle Gambiente hanno messo in piedi qualche anno fa una campagna che si chiama Mosaico Verde. La compagna Mosaico Verde di fatto tiene insieme le aziende che vogliono fare progetti di riqualificazione del territorio insieme ai comuni che vogliono riqualificare pezzi del loro territorio quindi a volte c'è la volontà ma si fa fatica a trovare anche le risorse per farlo questo intervento. Più di tre anni di progetti, siamo a oltre 300.000 piante, questo di Pesaro è un bellissimo progetto, è importante, è un ettaro, ospita 100 piante e anche arbusti perché l'obiettivo è quello di farlo diventare un bosco, cioè non è quegli interventi produttivi con le piante allineate a coperte ma è qualcosa di più strutturato, molto molto bello e utile per questo territorio. Nel comune di Pesaro il progetto fu accolto tre anni orsono e avviato dall'assessorato di Aidi Morotti. Ci piaceva molto pensare di riuscire a mettere mille alberi nella zona di Caprelino appunto perché c'è un centro sociale molto attivo, molto vivo che raccoglie dai bambini agli anziani, è un'area di grande traffico quindi dove c'è lo smog, avere gli alberi insomma c'è bisogno, c'è un campo di calcio, c'è un'area per l'agility dog, quindi un bel bosco a due chilometri in linea d'area da Piazza del Popolo, quindi un bel segnale che la città vuole dare rispetto al verde urbano, è uno dei tanti progetti che si fanno rispetto alle piantumazioni all'alberatura, è stato fatto uno molto importante anche alla celletta, si sta portando avanti ormai da diversi mesi, partiranno a breve anche i boschi urbani di società autostrade che sono lavori complementari rispetto all'intervento della terza corsia, quindi una città che si vuole caratterizzare sempre di più per l'ambiente. Questo intervento è importante e auspichiamo che ce ne siano altri, sappiamo che ci pianteremo altri 400 alberi a Villa San Martino, anche questo è molto importante e poi continuiamo con il Comune di Pesaro ad insistere perché la società autostrade ci faccia piantumare gli otto ettari di terra che sono fra gli accordi stipulati appunto per i lavori fatti nell'autostrada e così completiamo veramente un bel progetto che coinvolge tutta la città. Dalla natura urbana passiamo alla natura delle nostre bellissime montagne, con questo mese di marzo l'Appennino pesarese manda in archivio una stagione invernale particolarmente positiva all'insegna di nevicate di migliaia di visitatori che hanno rimesso in moto l'indotto delle nostre cime. Ne parliamo allora con Michele Oradei, responsabile della ricettività del Monte Catria. Stagione molto positiva, finalmente abbiamo avuto la prova che gli investimenti fatti sono andati nella giusta direzione, solo il Monte Catria a 15.000 primi passaggi e senza considerare poi tutte le altre stazioni a noi vicine. Con le quali, Michele Oradei ci tiene a sottolineare, il Catria non è in concorrenza ma è in collaborazione. Certo, fortunatamente le stazioni delle Marche non sono in concorrenza tra loro perché abbiamo un polo del pesarese e un polo del maceratese. Quindi noi attingiamo dalla Rimini di Romagna, dalla provincia di Perugia, dall'Umbria e loro invece attingono più che altro dal sud. La fine stagione è sempre un momento per tirare le fila, per ragionare e soprattutto per definire un po' programmi di sviluppo. Sì, i programmi sono stati importantissimi, gli investimenti sono andati nella direzione giusta, come dicevo prima, è importante farne degli altri perché questo è stato un primo step. Siamo passati da un turismo giornaliero, da un turismo pendolare a un turismo dei due o tre giorni. Quindi la gente ha dormito nei nostri territori, cosa importantissima. Per due o tre giorni abbiamo riempito bed and breakfast, ristoranti, alberghi, non avevamo più posto, la gente ha dormito fino a Fossombrone, nel nostro caso, Cagli, Cantiano, Pergola, Frontone. Dobbiamo passare appunto da un turismo adesso dei due o tre giorni a un turismo che è un'offerta che vada su tutti i mesi dell'anno. Quindi il prossimo passaggio è prolungare i due o tre mesi, quindi l'inverno e luglio-agosto, in una stagione più lunga per 365 giorni all'anno. Per quanto possa sembrare strano affermarlo, di conseguenza la montagna non è più un posto solo per gli appassionati di montagna, ma è un volano per la vita di tutti quelli che vivono nel territorio. Certo, perché chiaramente, diciamo, andando in questa direzione, cosa succede? Succede che le aree interne vivono, cioè i nostri ragazzi non sono costretti ad andare via, cioè possono pensare di fare un'attività e sviluppare la loro vita lavorativa nel territorio dove sono nati. E questo non è poco, chiaramente. Per far questo, però, a questi ragazzi bisogna dargli delle certezze. E le certezze ci si arriva solo facendo dei grandi investimenti, come è stato fatto fino adesso, e continuare a farli e soprattutto fare in modo che questi ragazzi abbiano la possibilità di... siano sostenuti nelle loro iniziative, nelle loro attività. Oggi è il momento giusto perché ci sono i finanziamenti che tramite l'Unione Europea passano alla Regione, arrivano ai GAL, gruppo di azioni locale, e i giovani possono avere i contributi, quindi pensiamo che attività possono essere finanziate anche al 50-60%, le nuove attività dei nuovi giovani con il PNRR, quindi questa è una grande opportunità. Quindi dico ai giovani, iniziate a sognare di fare la vostra vita lavorativa nei posti dove siete nati, che sono bellissimi. A fine marzo si chiude la stagione, ma il Catria non chiude mai? No, il Catria, come anche le altre montagne, in particolar modo noi, noi siamo una delle poche montagne aperte tutto l'anno, quindi a parte adesso che abbiamo preso 15 giorni di riposo dopo la stagione invernale, da Pasqua ripartiamo e con il Kinderland, Adventure Park, il Parco Aventura, tutti i sentieri che noi abbiamo, bellissimi d'estate, l'equitazione, quindi c'è di tutto. E vi ricordiamo che potrete vedere uno speciale televisivo dedicato proprio a questo bilancio, questa sera alle ore 21 e 40, chiaramente su Rossini TV. Ed ora cambiamo argomento, parliamo di solidarietà attraverso un progetto che unisce Lions Club Pesaro della Rovere, Caritas e gli ospiti di casa Tabanelli. La donazione di 7 bici a favore dell'inclusività. A questo sapore il gesto di Lions Club Pesaro della Rovere, che con il contributo di Pesaro Bici ha ridato vita a 7 biciclette che d'ora in avanti saranno a disposizione di Caritas e degli ospiti di casa Tabanelli. Riusciamo a donare 7 biciclette rimesse a nuovo e funzionali affinché gli ospiti di questa casa possano, attraverso questo mezzo di trasporto, raggiungere posti di lavoro, ci auguriamo una comunità, degli amici, degli affetti che li possano inserire all'interno della nostra città e che possano essere questo un mezzo attraverso il quale loro si inseriranno sempre di più attivamente all'interno della nostra comunità. Un progetto benefico per chi gode della struttura di casa Tabanelli la quale offre ai suoi 25 ospiti di media annuali un posto sicuro con l'obiettivo di dirigerli verso un'inclusione sociale facilitando dei percorsi di reinserimento. Quelle donate sono biciclette ritrovate negli ultimi anni dalle autorità comunali ed ora grazie a Pesaro Bici e a questa sinergia avranno una seconda vita. Le abbiamo risistemate in modo che siano più sicure e tranquille sia con la componentistica che con le luci in modo che come sicurezza è completa. È segno di una comunità che si muove assieme tanti soggetti, le istituzioni, i Lions, Pesaro Bici e la Caritas che mi sento di dire con tanta gioia che è il recettore ma è quello che poi fa in modo che queste bici possano servire a delle persone che crescano nella loro integrazione, nel loro inserimento, nel loro rimettersi in piedi per avere una dignità per il proprio futuro e per poter sognare in grande. Questa è la bellezza di questa esperienza di quest'oggi. Circa tre anni fa moriva Giovanni Ranocchi, un imprenditore illuminato, amante dello sport e sostenitore delle realtà sportive locali. Ranocchi è stato ricordato ieri attraverso la prima edizione di un memorial all'insegna di sport, benessere e solidarietà. Nel ricordo di Giovanni. Nella prima domenica di primavera 300 persone si sono messe in marcia sulle colline di Gradara in occasione del primo memorial Giovanni Ranocchi. Una camminata ludico-motorea organizzata a tre anni dalla scomparsa dell'imprenditore illuminato, fervente sostenitore dei valori dello sport e dell'attività fisica. 300 in marcia vestiti di t-shirt rossa nella quale era stampato un motto sintesi del pensiero di Giovanni. La parola data è scritta nella pietra. Mondo sportivo che ha voluto commemorare l'indimenticato leader di Team System nei sei chilometri di camminata dal relè Villa Matarazzo al castello di Gradara e annesso ritorno. Mondo sportivo rappresentato dall'assessore del comune di Pesero, Mila della Dora, da Marotta Mondolfo Ran che ha organizzato l'evento, da Frank Fabri, presidente dei Ranocchi Angels di football americano. Uno sport che ha peso renato proprio grazie alla lungimirante generosità di Giovanni in una tradizione poi proseguita dalla figlia Rianna, con la famiglia Ranocchi tuttora main sponsor di questa tradizione. Presente alla camminata anche Rosi, vedova di Giovanni, il sindaco di Gradara Filippo Gasperi ed Elisabetta Ferri e Beatrice Terenzi in rappresentanza di quella nazionale basket sorde sostenuta dalla famiglia Ranocchi fin dalla sua nascita. Una passeggiata collettiva nella quale sono stati raccolti anche 2.000 euro attraverso offerte libere ed evoluti all'Associazione Insuperabili di Giulia dedicata all'integrazione e alla tutela dei portatori di disabilità. Il Monte Carpegna è stato ribattezzato Passo Marco Pantani attraverso una cerimonia tenutasi sabato il Comune di Carpegna ha ufficialmente dedicato lo svalico della montagna alla memoria del compianto campione di ciclismo. Un tributo alla storia di Pantani chiamava Allenarsi a Carpegna un'intitolazione che è stata applaudita dalla stessa famiglia Pantani presente sul posto. Parliamo di musica. Domani martedì 28 marzo alle ore 21 il Teatro Sperimentale di Pesaro accoglie Filippo Graziani con Arcipelago Ivan un omaggio al padre Ivan appunto attraverso musica, racconti e letture rievocando i grandi successi del cantautore abruzzese adottato da Nova Feltria. Sarà l'occasione per rivivere il genio straordinario di un artista che come pochi altri ha saputo abbinare la poetica del cantautorato italiano con l'energia rock d'oltreoceano. Il concerto rientra nel programma di playlist Pesaro rassegna organizzata da Amat. Altra rassegna musicale è quella dei concerti del Conservatorio Rossini che proseguono con altri appuntamenti nella sala a Delebei della provincia domani alle ore 18.30 si esibirà Thomas Baroni vincitore del primo premio nella sezione pianoforte solista all'ultima edizione del concorso internazionale musicale Città di Pesaro. Giovedì alla stessa ora in scena un altro giovane pianista pluripremiato come Davide Massacci. I concerti sono a ingresso libero fino a esaurimento posti. E come ogni lunedì concludiamo il nostro telegiornale facendo una sintesi di come sono andate le nostre squadre locali in questo fine settimana. Bologna resta un tabù. La VL cade nella tana della Virtus 88 a 76 al termine di una partita giocata ad intermittezza dagli uomini di Repegia che approcciano il match in maniera arrembante andando sul 10-19 dopo sei minuti. Dopodiché Pesaro resta incollata alla reazione di forza d'urto delle V nere con il primo tempo chiusosi in svantaggio ma ad un solo possesso di distanza dal più tre bolognese. Davanti a un folto pubblico pesarese la seconda gara di Dei non dà i frutti sperati a differenza del rientro di Charalampopoulos migliore dei pesaresi spalleggiato da una bella gara di Totè. Dall'altra parte però Lumberg e Wims fanno la differenza oltre all'ex Daniel Hackett che armonizza costantemente la manovra di squadra. È una sconfitta che manda la VL al settimo posto in classifica. Nel prossimo turno ci saranno in paglio due punti pesantissimi nello scontro diretto alla Vitrifrigorena contro Trento attuale ottava forza del torneo. Dal basket al calcio a 5 a Napoli finisce con un secondo posto a testa altissima l'avventura dell'Ital Service Pesaro alle Final Four di Coppa Italia. Pesaro abdica dal trono della Coppa conquistata in due edizioni perdendo in finale 3-1 contro il Real San Giuseppe che si prende la coccarda tricolore. Epilogo di un weekend a emozioni forti con l'Ital Service che al sabato aveva fatto saltare il banco dei pronostici eliminando Napoli, padrona di casa, capo classifica della Serie A e favorita della rassegna. Una semifinale vinta ai rigori dove si è esaltato il portiere peserese Putano al termine di un 3-3 dopo i tempi supplementari. In finale invece l'Ital Service paga alcuni episodi poco fortunati va sotto nel punteggio pareggia con Fortini ma un pari che dura solo tre minuti. Il tempo di rivedere i campani avanti prima di gonfiare il punteggio fino al 3-1 definitivo. Ora l'Ital Service deve rituffarsi anima e corpo nella rasse finale della lotta salvezza in campionato. Salvezza che è sempre più complicata per l'Avis Pesaro che nel campionato di calcio di Serie C perde 0-2 in casa con l'Entella a seconda forza del torneo. I Liguri vanno subito in vantaggio dopo tre minuti con Corbari ma l'Avis non sfigura e resta incollata al match con una prova compatta che sembra ammiccare al pari prima del gol di Tascone che al 76esimo mette fine alle illusioni. L'Avis resta quintultima in classifica a meno 2 da una salvezza diretta che andrà rincorsa negli ultimi quattro capitoli della regular season. Nel campionato di Serie A di Regui cade in maniera netta la Fiorini Pesaro che in Toscana perde 45-3 contro i Cavalieri Union Prato VI. Continuano invece a vincere i ranocchi Angels Pesaro che al secondo match del campionato di football americano sorridono ancora sul campo amico di Via Respighi avendola meglio su un altro avversario bolognese. Dopo i Doves battuti anche i Braves per 40-18 a dispetto degli infortuni di Zito, Maltoni e Pier Maria che hanno costretto a reinventare la squadra. Nella pallavolo la Megabox vince Perusa al tiebreak dopo una partita che le Umbre, ancora in lotta per salvarsi allungano all'infinito e che le Tigri portano a casa avendo ragione del quinto e decisivo set. Dulcis in fundo continua a vincere l'asso pesarese della kickboxing Jordan Valdinoci laureatosi campione del mondo Isca. Sulle rive del lago di Lugano a campione d'Italia durante l'evento di arena Jordan ha conquistato la cintura battendo il francese Jamal Wahib. Siamo arrivati alla fine del nostro telegiornale, carissimi amici però restate in contatto con noi, restate collegati sul canale 80 perché questa sera alle 21.20 ritorna a CheckUp Obiettivo Salute questo programma in collaborazione con Fisioradi Medical Center. Questa sera parleremo delle malattie degenerative e lo faremo con Andrea Valentini, fisioterapista. E poi alle 21.40, quindi circa subito dopo questo nostro appuntamento con CheckUp vediamo appunto questo bilancio di come sono andate di come è andata la stagione sciistica appunto nelle nostre montagne della provincia e lo faremo con Michele Oradei. Domani torna la nostra rassegna stampa vi aspetto alle 7.20 in diretta puntuali sul canale 80 ma anche sulla nostra pagina Facebook. Grazie per averci seguito, adesso per voi il meteo.